buongiorno dalle andromaggi buongiorno da taglio di po siamo sull'argine proprio in confine tra porto tolle taglio di po e tra l'altro dove si dirama il po di po grande il po di venezia con il po della gnocca dico bene e sono con luigi forte allora luigi innanzitutto la vostra azienda è una delle aziende più famose di tutto il polesine però ci vuoi annunciare una bellissima iniziativa che periodicamente ogni anno la proponete in questo territorio cosa farete voi in aprile allora il giorno 10 di aprile domenica organizzeremo un evento conoscere le famiglie l'importanza della terra del seme delle culture che seminiamo che poi diventano cibo sia per l'uomo che per l'animale e rispettiamo anche l'ambiente perché sostenibilità uno scopo per far conoscere il nostro territorio ma non solo avete anche uno scopo sociale in particolare cosa soprattutto sociale ci saranno due associazioni un'associazione sportiva sport in veneto che sono dei ragazzi con disabilità motorie che sono campioni italiani di calcetto quindi si esibiranno al mattino in un campo appena seminato con una partitella di calcetto e poi avremo faremo una spiegazione delle attrezzature la parte agronomica e culturale quindi molto tecnica una pausa pranzo con un buffet con prodotti della filiera di nostri clienti che usano un'arma medica di tutta italia quindi formaggi dop per terminare con un momento di condivisione quindi anche la tua testimonianza sarà importante ascolterete delle testimonianze di grandissimo valore umano sia di questi ragazzi e soprattutto anche di un'altra associazione che è accolti con amore che sono ragazzi accolti in una casa famiglia quindi sarà una giornata per il sociale per il nostro cuore ascoltare e raccontarci Grazie Luigi noi ci saremo anzi accettiamo l'invito di Ben con tutto il cuore e che dire bravi questo è l'unica cosa l'unico aggettivo che posso dire complimenti Io vi invito a partecipare è un evento sociale per per crescere assieme Ecco l'ultima domanda per far questo bisogna mandare una mail chiamare cosa bisogna fare Allora su prenotazione meglio al numero 042681097 oppure una mail a ordini chiocciola open-farm.it Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti